Armati di pistola a tamburo, Magnum 357 e Kalashnikov hanno rapinato banche ufficie postali e cash and carry. Alle prime luci dell'alba di oggi, ad Ostuni e Ceglie Messapica, 50 carabinieri della compagnia di San Vito dei Norbanni, corroborati da personale del Comando Provinciale di Brindisi, dallo squadrone eliportato Carabinieri Puglia, dal sesto nucleo elicotteri dei Carabinieri di Bari e nucleo cinofili della Guardia di Finanza di Brindisi, hanno arrestato 8 soggetti residenti in quei comuni e deferiti in stato di libertà complessivamente 11 persone, inseriti a vario titolo nelle dinamiche delinquenziali. In carcere, il capobanda Barnaba Mariano, nato a Brindisi nel 92 e residente ad Ostuni, il suo braccio destro Santoro Giuseppe, nato a Fasano nel 92 e residente ad Ostuni, e Tanzariello Francesco, nato ad Ostuni nel 63 senza fissa dimora. Agli arresti domiciliari invece, i genitori di Mariano, Barnaba Francesco, nato ad Ostuni nel 60 e di vi residente, e Borsellino Margherita, nato ad Ostuni nel 63. Ai domiciliari anche Milone Orazio Gaetano, nato ad Ostuni nel 92, Cantore Gennaro, nato ad Ostuni nel 71, e Sumarocco, nato a Ceglie Messapica nell'85, tutti residenti ad Ostuni. A dare il via all'attività d'indagine condotta dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, una serie di rapine perpetrate sul territorio della Compagnia tra l'1 e il 7 marzo. Il simile modus operandi ha permesso di individuare un gruppo di rapinatori suddiviso in due squadre in grado di operare simultaneamente. Per loro le accuse di associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione relativamente a due autovetture utilizzate per compiere rapine, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, detenzione e porto illegale di arma da guerra, acquisto e detenzione illegale di arma comune. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS